Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di East Journal Live, questa sera parleremo di Nagorno-Karabakh, come sapete da oltre ormai due settimane la guerra è tornata a imperversare in questa regione, cercheremo di fare il punto della situazione stasera. Con me a commentare insomma questa situazione ci sono tre ospiti, due sono due collaboratori di East Journal che si occupano dell'area caucasica, sono Eugenia Fabi e Leonardo Zanatta, quello è il benvenuto e con loro c'è Simone Zoppellano, giornalista che in questi giorni è attivissimo soprattutto sui social ma non solo per raccontare cosa sta accadendo in questa regione. Prima di passare la parola ai nostri ospiti volevo un attimino andare a inquadrare il luogo di cui stiamo parlando e inviterei la regia a lanciare intanto una delle cartine che abbiamo preparato. Il Nagorno-Karabakh si trova nell'area del Caucaso, appunto quella che si stringe insomma tra i due mari, il Mar Nero e il Mar Caspio, in questa regione abbiamo la Georgia, abbiamo la Russia, abbiamo l'Armenia, abbiamo l'Azerbaijan e abbiamo appunto il Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è una di quelle regioni, di quegli stati anzi autoproclamatesi tali che sono sorti all'indomani diciamo del collasso dell'Unione Sovietica. Questi stati non riconosciuti ad oggi sono quattro, tre dei quali si trovano nel Caucaso, appunto abbiamo il Nagorno-Karabakh, abbiamo l'Ossetia e l'Apkazia e poi invece in territorio pienamente europeo stretta tra la Moldavia e l'Ucraina abbiamo la Transnistria. Questi quattro stati sono degli stati de facto, ovvero sono delle repubbliche che si sono autoproclamate tali ma non sono state riconosciute da nessuno. Queste repubbliche hanno tendenzialmente una sorta di statuto particolare all'interno di paesi che li riconoscono all'interno dei loro confini, vale a dire ogni paese, ognuno di questi stati fa parte di uno stato più grande che è riconosciuto internazionalmente. Il Nagorno-Karabakh è de jure parte dell'Azerbaijan, così è stato stabilito dall'ONU all'indomani del collasso dell'Unione Sovietica. Tuttavia appunto, come dicevo prima, in seguito a una guerra che si è protratta dalla fine degli anni Ottanta fino al Novanta Quattro, possiamo dire guerra di indipendenza, il Nagorno-Karabakh si è considerato appunto indipendente. Il Nagorno-Karabakh si contraddistingue soprattutto per la sua componente armena, la maggior parte della popolazione in questa regione è armena. Questo è il motivo per cui si può parlare di Nagorno-Karabakh come di una isola armena all'interno dei confini a zero, appunto perché non ha neanche un confine che tocchi con l'Armenia, proprio un'isola all'interno dello Stato a zero. Dal 94 a oggi ci sono state varie schermaglie, varie occasioni di dissidi che sono anche scociati in occasioni di guerra. Nel 2016 in particolare c'è stata la guerra dei quattro giorni, però appunto una guerra così lunga come l'attuale, ancora non si era realizzata. Vorrei invitare subito Eugenia a raccontarci cosa sta succedendo insomma dal 27 di settembre in Nagorno-Karabakh. Ok, buonasera a tutti. Dunque allora inizio a rispondere a Martina e mi ricollego al discorso che lei ha fatto, ricollegandomi appunto alle origini del conflitto di Nagorno-Karabakh che si configura oggi non come una nuova guerra a sé stante, ma proprio come una violazione di quel cessato del fuoco entrato in vigore nel 94, ma semplicemente appunto come una ripresa di quella stessa guerra e appunto una semplice violazione del cessato del fuoco già concordato. Si hanno già avute delle avvisaglie di un clima che si faceva sempre più teso e pericoloso a metà luglio, quando il 14 luglio gli eserciti armeno e da zero si erano confrontati in prossimità del confine e la sera di quello stesso giorno la popolazione a zero è scesa in piazza a Baku chiedendo una ripresa della guerra contro l'Armenia. Guerra che effettivamente è stata ricominciata perché il 27 settembre i cittadini di Stepanakert si sono svegliati sotto un attacco missilistico a zero e da quel momento Stepanakert che è preciso è la capitale de facto del Nagorno-Karabakh è stata sotto obiettivo di un bombardamento quasi costante sino ad oggi quindi per 17 giorni. In questa guerra ci sono stati episodi particolarmente pesanti e drammatici porto alcuni esempi il 4 ottobre a Shush è stato bombardato il centro culturale della città dove si trovavano accampate alcune centinaia di soldati armeni e secondo fonti locali più della metà di loro o circa la metà di loro è deceduta nell'attacco e sempre pochi giorni dopo l'8 ottobre la cattedrale della stessa città è stata violentemente colpita da un bombardamento gravemente danneggiata. Anche dal lato a zero ci sono stati episodi particolarmente drammatici e cito da questo punto di vista il bombardamento di Genge che è la seconda città a zero ma non solo nel senso che molti altri centri abitati dell'Azerbaijan sono stati colpiti da bombardamenti e in questo momento se consideriamo le vittime civili sia dal lato a zero che dal lato almeno siamo diciamo che le stime ufficiali riportano all'incirca 67 civili uccisi nello scontro. Sabato si erano avuti segnali incoraggianti perché nella notte tra venerdì e sabato i ministeri degli esteri di Azerbaijan, Armenia e Russia avevano raggiunto a Mosca un accordo per un cessato del fuoco che doveva entrare in vigore dalle 12 di sabato. Peccato però che meno di un'ora dopo il momento in cui sarebbe dovuto entrare in vigore gli scontri armati si hanno ripresi e vanificando qualunque speranza. Gli scontri stanno proseguendo tuttora in particolare domenica a Genge è stato colpita un'abitazione di civili provocando la morte di quasi nove persone e ad oggi se guardiamo alle stime dei militari armenni deceduti negli scontri siamo arrivati a 542 militari deceduti mentre per la Zerbeggia non è stato dichiarato, non sono state date alcuna stima ufficiale. Questo conflitto sta creando però dei rischi non soltanto per i due paesi coinvolti ma anche per la regione tutta. Infatti la settimana scorsa in Iran nella regione di Tabriz si sono abbattuti vari missili per errore provenienti sia da Armenia che da Azerbaijan e in particolare con uno di questi incidenti è rimasto gravemente ferito un bambino di sei anni. Oppure in Dagestan si è abbattuto un missile sempre pochi giorni fa e per fortuna non ci sono stati né morti né feriti ma anche questo missile secondo gli esperti era riconducibile all'apparato militare armeno in base alle caratteristiche che aveva ed era caduto lì per errore. E anche in Georgia sono stati ritrovati dei droni di cui non si conosce l'origine ma che potrebbero essere a loro volta riconducibili al conflitto. Quindi la situazione continua a essere critica e il cessato del fuoco sino ad ora non ha prodotto alcun sostanziale risultato purtroppo. Grazie Eugenia. Volevo anche ricordare appunto ai nostri lettori che Eugenia ha appunto fatto questa domanda perché in questi giorni è stata una dei nostri direttori che hanno seguito più da vicino la questione e appunto tornando sull'argomento dell'ambito regionale, delle ricadute regionali che ha questo conflitto nell'area. Eugenia ha scritto appunto questo articolo, una crisi che sembra più regionale relativamente al conflitto in Nagorno-Karabakh. Abbiamo avuto un piccolo problema con la regia che però adesso è tornata operativa e ci può lanciare le cartine di cui parlavo prima, giusto per avere un'idea di dove si trova il Nagorno-Karabakh. E aggiungo rispetto a quello che ho detto in introduzione che questo paese, benché appunto abbia una qualche tipo di vicinanza in tutti i sensi anche durante questa guerra all'Armenia, diciamo che è un sostegno aperto quello dell'Armenia verso il Nagorno-Karabakh, l'Armenia comunque non riconosce ufficialmente questo paese. Chiaramente riconoscerlo vorrebbe dire, possiamo passare anche all'altra cartina, vorrebbe dire chiaramente porsi in una situazione molto rischiosa e innanzitutto è uno dei patti appunto che l'Armenia deve rispettare per il mantenimento dello status quo e della pace che in questo momento invece viene a mancare appunto come dicevo prima il Nagorno-Karabakh è quell'isoletta appunto all'interno dell'Azerbaijan che quindi appunto non confina nemmeno con l'Armenia di per sé, da non confondere con l'altro pezzettino di Azerbaijan che comunque in intanto viene confuso che è il Nakichevan che è appunto invece un'esclave a zero sotto l'Armenia. Ecco parlavamo di una crisi sempre più regionale e questa regione si connota dal punto di vista energetico come una regione cruciale appunto perché sappiamo che gran parte degli olodotti, i gastotti che arrivano anche in Europa passano per quest'area. Quali sono le recadute? E lo credo a Leonardo che è il nostro un po' esperto di materia energetica in East Journal. Quali sono le ricadute insomma di questo conflitto per questo aspetto? Grazie per la parola e buonasera a tutti e spero possiate sentirmi bene. Le ricadute dal punto di vista energetico come menzionato da Martina pochi secondi fa sono che due infrastrutture energetiche di vitale importanza quali il South Caucasus Pipeline che è diciamo il primo anello di congiunzione di quello che viene anche definito come corridoio meridionale del gas, infrastruttura comunque il cui costo ammonta i 40 miliardi di dollari circa e che dovrebbe entrare pienamente in funzione a fine di quest'anno e che dovrebbe attraverso i suoi vari anelli quindi la TANAP-TAP arrivare addirittura fino alle coste della Puglia quindi un progetto che è anche molto vicino e molto sensibile per l'Italia e sempre per l'Italia è molto sensibile poi l'oleodotto che passa da quelle parti ossia insomma l'oleodotto Baku che collega poi Baku, Tbilisi, Ceyan e da lì si collega al resto delle infrastrutture e per quanto appunto ancora dal punto di vista degli approvvigionamenti di gas naturale insomma la questione ancora non risulta di un'importanza diciamo fondamentale insomma dal punto di vista strategico per quella che è la diversificazione degli approvvigionamenti energetici europei quella del petrolio è ovviamente invece molto importante ricordiamo che questo oleodotto Baku, Tbilisi, Ceyan ha una capacità di trasporto di 1,2 miliardi di metri cubi al giorno parliamo di piena capacità di un oleodotto in grado di portare l'1% delle risorse mondiali parliamo di numeri incredibili ovviamente questo oleodotto in questo momento non viene usata a piena capacità anzi ne viene usata poco meno della poco meno della metà comunque parliamo di un'importante di un'importantissima infrastruttura energetica quello che ci fa capire l'andamento di questo conflitto è che al momento quella che è la sicurezza energetica dell'Unione Europea che tanto Baku va menzionando nella sua retorica nel conflitto ovviamente ognuno porta acqua al suo mulino non sia momento repentaglio l'Armenia non ha interesse a mio parere in questo momento a effettuare degli attacchi sistematici verso queste infrastrutture energetiche nonostante ricordiamo dopo il conflitto del 2016 che dopo questo c'è stato il fuoco alcune esercitazioni militari erano state effettuate all'interno dell'esercito armeno o meglio anzi mi correggo all'esercito dei separatisti del Nagorno-Karabakh a fine di un eventuale attacco a queste infrastrutture quindi al momento non sembra che queste infrastrutture energetiche abbiano gravissimi rischi ma occorre ovviamente tenere monitorata la situazione soprattutto perché questo leodotto in realtà Baku Tbilisi Cheyan ha già in realtà ricevuto attacchi o minacce non dall'Armenia ma in realtà ma anche se mai certificato mai riconosciuto in realtà dalla Russia e si era parlato anche qualche anno fa del movimento del partito del PKK si era parlato di queste infiltrazioni quindi questa è secondo me la situazione riguardante l'infrastruttura energetica in questo momento Grazie Leonardo abbiamo parlato di come questa guerra veda nuovamente scontrarsi a Azerbaijan e Armenia sul territorio del Nagorno-Karabakh però come in tutte le guerre che si rispettino si creano due fronti con alleati e nemici per quanto riguarda l'Azerbaijan un grande alleato fondamentale è sicuramente la Turchia tra l'altro la Turchia come sappiamo ha ormai da oltre un secolo un rapporto quantomeno di dissidio profondo con l'Armenia in quanto tale ricordiamo il genocidio degli armeni sicuramente di inizio novecento ma per chi di voi ha viaggiato con Turkish Airlines a me è capitato più volte se guardate la cartina dello schermo che mostra insomma il volo in maniera virtuale vedrete che l'Armenia e nemmeno Yerevan non sono assolutamente segnati su questa cartina appunto la compagnia di bandiera aerea Turca non ammette l'esistenza neanche sulla cartina dell'Armenia qui si parla non di Armenia ma si parla direttore di uno stato non riconosciuto internazionalmente quindi come si comporta, lo chiedo a Eugenia, la Turchia nei confronti del Nagorno-Karabakh e quindi dell'alleato di sempre, il fratello a zero Sì, allora grazie per la parola la posizione della Turchia rispetto al conflitto in Nagorno-Karabakh è una posizione che è molto mutata cioè più che mutata che si è molto rafforzata nel corso del tempo infatti se all'inizio degli anni novanta la Turchia ancora vedeva la guerra in Nagorno come uno dei tanti conflitti post-sovietici nel tempo è andata rafforzando i propri rapporti con l'Azerbaijan che sono rapporti molto profondi non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista culturale e linguistico tanto che i due paesi sono membri dal 2009 del Consiglio Turco che è un'organizzazione che raccoglie paesi di lingua turchica come Azerbaijan, Turchia, Kazakistan e Kirchizistan e i loro rapporti sono anche particolarmente sensibili dal punto di vista economico Leonardo parlava di gasdotti e oleodotti ebbene questi gasdotti e questi oleodotti devono necessariamente, inevitabilmente passare dal territorio turco e sono rapporti così stretti e così profondi che i leader politici dei due paesi spesso definiscono i propri stati come una nazione con due stati per proprio enfatizzare il profondo legame che li unisce e proprio a causa di questo strettissimo rapporto con l'Azerbaijan come anticipava anche Martina la Turchia ha reciso qualunque relazione con l'Armenia in particolare nel 1993 il ministro degli esteri turco annunciò che il confine tra l'Armenia e la Turchia sarebbe stato chiuso definitivamente e che qualunque trasporto via terra o comunicazione, cioè trasporto anche via aria sarebbe stato interrotto i commerci sarebbero stati interrotti e ci sono stati tentativi più avanti negli anni di ristabilire qualche rapporto fra Armenia e Turchia ma sono falliti e sempre a causa poi dell'indignazione della reazione azzera e se guardiamo alla posizione attuale della Turchia nel conflitto attuale è una posizione estremamente assertiva già a fine settembre le autorità turche siano dichiarate disposte a contribuire in qualunque modo a sostenere l'Azerbaijan in qualunque modo nel recupero della sovranità effettiva sul Nagorno Karabakh e oggi stesso il ministro degli esteri turco ha affermato che nessun cessate il fuoco verrà visto dalla Turchia come un effettivo tentativo di ristabilire la pace tra i due paesi a meno che tra le clausole non si preveda il ritorno del Nagorno Karabakh sotto la sostenibilità zera è una posizione diciamo abbastanza singolare nell'ambito della comunità internazionale perché in realtà gran parte della comunità internazionale sta portando avanti qualunque tentativo pur di tentare di calmare le ostilità inclusa la Russia in realtà che si sta ponendo in una posizione di appunto mediatore nonostante abbia di fatto rapporti privilegiati con l'Arminia tanto che i due paesi sono membri di una vera e propria organizzazione militare che è il CSTO e questo protagonismo turco nel conflitto non è per ragioni ben visto dalla Russia nel senso che tradizionalmente la Russia cerca di mantenere un'influenza privilegiata nell'area post-sovietica e ovviamente l'influenza un'ingerenza così forte da parte di un altro attore che comunque è una grande potenza una potenza regionale va a minare la sua la sua diciamo l'egemonia sulla regione e un'altra preoccupazione da questo punto di vista che le autorità russe hanno raccolto è quella legata al terrorismo islamico infatti Assad ha accusato Erdogan di reclutare terroristi siriani e di appunto da inviare a combattere il Nagorno-Karabakh questa c'è proprio accusa che la Turchia ha ampiamente smentito ovviamente e che però è stata raccolta con preoccupazione dalla Russia che vede che è da sempre particolarmente sensibile al tema del terrorismo islamico anche per la grande instabilità del caucaso settentrionale grazie Eugenia per questo intervento e appunto ringrazio innanzitutto i commenti che stanno arrivando ne è partito forse per sbaglio uno dalla legia ma volevo lanciare quello di Marlin che appunto ci chiede appunto molti armeni vedono questo conflitto attuale come una riappropriazione della loro parte di identità in questo territorio e per quanto riguarda la parte diciamo che c'è dopo il post scritto riguardo alla Turchia mi pare che abbiamo ampiamente risposto grazie a questi interventi introducendo a Simone che insomma è giornalista ha scritto anche in questi giorni molti articoli ha scritto uno molto bello per Garivo la fondazione Garivo appunto che si in cui insomma parla di quello che si potrebbe definire come un genocidio o forse no magari puoi parlarcene meglio tu insomma come dobbiamo interpretare questo questo conflitto da parte armena e visto che Eugenia ha introdotto alla diciamo alla supervisione russa di questo conflitto l'Armenia insomma ha un rapporto privilegiato con Mosca come si sta rapportando Mosca a questa questa guerra attuale è questa una bella domanda che ci stiamo facendo in tanti anche vedo che cercano cercola molto anche gli analisti del Caucaso è un grande mistero io su questo mistero ho una tesi forte una tesi forte da tempo cioè che l'idea di proxy war di una guerra per procura per quello che riguarda il Nagorno-Karabakh sia un'idea errata ho questa idea e fra altre idee che non hanno funzionato sono andate molto peggio di come pensavo perché riguarda la guerra iniziata al 27 settembre questa è un'idea che invece mi sembra trovi riscontro invece è un'ipotesi non è un'idea astratta è un'ipotesi che trovi abbastanza riscontro in questo contesto cioè le domande che ci stiamo facendo sono tante cioè quali sono le red lines che ha messo Mosca in questo conflitto sappiamo che l'accordo di cooperazione militare fra Armenia e Russia prevede che se l'Armenia viene attaccata la Russia debba intervenire ebbene sono arrivati ricordavamo anche prima missili che sono arrivati in Iran ad esempio di questo è parlato molto ma anche l'Armenia è stata colpita in questi giorni e di sicuro la posizione che abbiamo visto di Mosca è attendista cioè l'idea che mi sono fatto è che il gioco di Erdogan probabilmente ha un ruolo anche importante rispetto a questa crisi insieme ad Adief sia quello appunto di rientrare in un contesto storico ancora una volta in cui la Turchia ha avuto un grande peso che è il caucaso del sud rientrarci in una maniera molto da Erdogan appunto aggressiva ma anche da un punto di vista geopolitico creativa purtroppo facendo anche di un'arma naturalmente le memorie che sono legate in molti armeni non quello che sta succedendo oggi ebbene cioè la carta di Erdogan qual è l'idea di Erdogan quella di fare un patto con la Russia per scalzare l'Europa la Francia gli Stati Uniti che sono impegnati in ben altre cose conflitti cioè campagna elettorale conflitto anche quello purtroppo in un certo senso e soprattutto la crisi del covid questa ipotesi portata avanti da Erdogan al momento non ha trovato un sì da parte di Mosca ma non ha trovato neanche un no Mosca sicuramente nella lunga intervento che c'è stato c'è stato questo colloquio molto lungo di dieci ore che ha portato che ha partorito il nulla cioè ha partorito un cessato il fuoco temporaneo e umanitario che non ha retto due ore in realtà il grip di Mosca è forte nel Caucaso e in realtà l'Azerbegiano è assai dipendente dalla Mosca innanzitutto fra le tante cose ottime che hanno detto sia Leonardo che Eugenia e complimenti davvero un elemento importante in più da aggiungere è quanto l'Azerbegiano acquista anche da un punto di vista militare dalla Russia tantissimo cioè la Russia ha un peso effettivo anche in Azerbaijan ebbene questo peso al momento non lo sta facendo valere e questo è un mistero cioè la Russia potrebbe intervenire spero nei prossimi giorni perché potrebbe essere temo l'unico fattore di cambiamento non ho un grande amore per Putin e per il governo della Russia però temo che possa essere l'unico fattore davvero di cambiamento però al momento rimane aperta l'ipotesi di Erdogan cioè di riportare la Turchia come attore attore diplomatico che negozi una pace espandendo la sua influenza nel Caucaso del Sud al momento la Russia appunto non ha accettato questo gioco ma non l'ha neppure respinto e qui c'è una grande inquietudine c'è naturalmente da parte degli armeni ci sono tante memorie storiche che stanno tornando in questi giorni con rabbia con frustrazione hanno ragione la frustrazione e la rabbia sono anche in confronti di Mosca però tu Martina ricordavi bene prima la è stata nella prima nel 2016 ero lì poche settimane fa ero in Karabakh e mi ricordo anche quanto gli armeni del Karabakh fossero arrabbiati con la Russia perché non era intervenuta in quei casi figuriamo arrabbiati anche adesso c'è una grande delusione c'è davvero purtroppo una psicosi dell'isolamento che ha dei dati reali cioè l'Armenia è estremamente isolata da un punto di vista militare e diplomatico e questo si sta aggiungendo a una situazione umanitaria drammatica per quel che riguarda la popolazione della Gono Karabakh questo un po' in sintesi quello che penso rispetto a questa questione infatti adesso è accennato proprio alla questione umanitaria che poi è un po' il risvolto di tutti i conflitti nel mondo abbiamo parlato prima Eugenia ci ha raccontato un po' quali sono i dati a nostra disposizione però appunto a parte morti e feriti la situazione per un paese che si ritrova da improvviso all'interno di una guerra chiaramente è qualcosa di inimmaginabile nel senso che Stefanakert come capitale de facto del Nagorno Karabakh non è che fosse una città devastata ancora dalla guerra del 94 aveva avuto una sua ricostruzione era tornata in sesto era una capitale con tutti i suoi servizi le sue scuole i suoi negozi i suoi uffici eccetera entrare improvvisamente in una guerra che devasta gli edifici e costringe a vivere nei bunker sotterrani nelle cantine è qualcosa che va oltre il numero delle vittime e dei feriti sempre a Simone quindi volevo chiedere di raccontarci un po' la questione umanitaria che stiamo osservando adesso qual è la posta in gioco di chi abita nel Nagorno Karabakh e che ancora non è scappato e perché poi bisogna sempre scappare da queste guerre quando invece si potrebbe mettersi d'accordo e non farle adesso il numero di morti e di feriti aggiungo due piccole notizie le cifre che ha riportato Eugenia erano perfette non è assolutamente una critica in quello la prima è che c'è la legge marziale anche in Armenia cioè l'Azerbaijan come diceva Eugenia semplicemente non fornisce le cifre cioè le fornisce solo per i civili non per i militari in Armenia al momento la legge marziale prevede che ci sia un controllo totale di media questo produce il fatto che fonti informali anche vicino al governo parlino di cifre molto più alte e che ci fosse anche l'altro giorno ho letto un articolo molto interessante su Jam News che è un portale che si occupa di Caucaso che raccontava come forti militari armene a zero e dicessero in realtà che si tenevano molto più basse le cifre proprie rispetto alla realtà e questo conosco purtroppo anche io delle famiglie con dispersi a Hadrut si sta compartendo in maniera molto dura a Mortakert e in altri luoghi della frontiera qui è pieno di dispersi e di corpi che purtroppo non saranno raccolti lì ho avuto anche la fortuna e il privilegio di essere molto amico di due giornalisti che sono appena rientrati da lì che sono Roberto Trovane e Danilo Bellocchio che hanno fatto un lavoro enorme quindi oltre ad avere molte fonti molti amici anche lì ho raccolto anche tante informazioni da loro che vi racconto cioè la situazione è bruttissima perché bombardano giorno e notte bombardano giorno e notte continuamente dopo incestate fuoco è vero che gli armini hanno fatto una presaglia contro Gangia ma è anche che hanno colpito decine di volte in 24 ore solo Stepanakert e non solo Stepanakert anche perché esplosioni le vedevano questi giornalisti italiani anche in lontananza è una situazione completamente fuori in controllo è la struttura di un assedio è la struttura di un assedio in cui c'è una piccola città un piccolo centro che è costantemente colpito da cluster bombs quindi da bombe a grappolo per cui l'ospedale di Stepanakert che fa anche lui operazioni nei suoi rifugi antierei perché non si riescono neanche più a fare operazioni in realtà dentro la struttura ospedaliera sono piene di persone che hanno frammenti prodotti delle cluster bombs nel corpo nel cervello nella testa vengono usate armi sporche questo l'ha denunciato anche Amnesty International di recente e davvero le persone stanno le poche persone che sono rimaste perché almeno della metà della popolazione del Karabakh che è rimasta sta vivendo un'agonia senza fine più di due settimane chiuse in dei rifugi antiaeri con un covid che è estremamente alto in Armenia sicuramente almeno problema minore per loro ma con problemi a procurarsi cibo con dei problemi sanitari enormi ci sono anziani che non hanno potuto scappare i bambini hanno lasciato tutto il Karabakh ed è la struttura davvero di un assedio che si sta riproducendo in una maniera devastante adesso nell'ultimo articolo per Gary ho usato parole ingombranti anche e non senza fare fatica cioè non si può dire che sia un genocidio oggi un genocidio spero che non lo sia mai e quello lo si può vedere purtroppo solo a posteri certo è che una pulizia etnica lo sembra già in maniera piuttosto strutturata quando più della metà la popolazione è scappata e quando c'è il rischio oggettivo che tutte queste battaglie che stanno producendo anche oggi molto dure al confine producano una rottura delle linee del fronte quella potrebbe davvero essere una pulizia etnica che è già in corso è già purtroppo molto avanzata grazie Simone per questo intervento dai commenti che arrivano emerge una cosa che si rispecchia spesso soprattutto appunto sui social che creano questo ambiente virtuale tendente all'odio ovvero si creano in maniera molto facile queste due campagne opposte di azzeri e armeni o filo armeni e filo azzeri che un po' non si ascoltano però diciamo dal punto di vista dei media e della copertura mediatica che c'è stata in Italia è stato molto ha trovato molto eco diciamo l'aspetto armeno diciamo di questo conflitto la diaspora almena ha fatto modo ha fatto bene insomma nel suo lavoro di copertura mediatica e umanitaria all'estero se ne parla molto di questo conflitto del Nagorno-Karabakh benché non abbastanza e la diaspora almena ha avuto un ruolo molto importante volevo chiedere a Leonardo di raccontarci un po' di come si è mossa la diaspora in questo contesto certo grazie per la parola e ovviamente come giustamente menzionato l'elemento della l'elemento comunicativo di questo conflitto il comunicare che cosa sta succedendo in Karabakh è di fondamentale importanza questo lo denota anche come già ad agosto quando c'erano stati comunque quelle le tensioni nel Tavushi insomma ci fosse l'idea di come da entrambe le parti si volesse anche ritornare a parlare di un conflitto che molti hanno definito come congelato ma congelato di congelato a poco che nulla perciò l'importanza di comunicare il conflitto della situazione di questo territorio al di fuori al di fuori di quello che è il terreno di battaglia il terreno di un conflitto che abbiamo definito negli interventi precedenti diventare sempre più all'interno di una mera dimensione regionale una volta esclusa l'ipotesi o una volta scongiurata o meno l'ipotesi di questa proxy war parliamo di un conflitto sempre più regionale quindi il comunicarlo è di una fondamentale importanza all'esterno ovviamente come sappiamo la diaspora soprattutto quella armena la spiurc come viene definita in lingua locale ha sempre avuto una importanza incredibile dalla Russia alla California attraverso soprattutto anche la presenza di grandi celebrità inutile inutile menzionare comunque l'intervento anche mediatico veramente massiccio potremmo parlare anche della recente comunque donazione dell'impegno della famiglia Kardashian ad esempio nella donazione all'Arminian Fund potremmo parlare di diverse personalità nel mondo dello spettacolo in Russia da una parte e dall'altra si sono mobilitate quello che sicuramente preoccupa è ovviamente che già da agosto le tensioni tra appunto le due diaspore erano già esacerbate in tutti in tutto il mondo se vogliamo dirlo perché sia Los Angeles sia in varie città della Russia ma anche in Europa sono stati scontri e quello che ci si auspica veramente è che tra tutti i mali che sta portando questo conflitto l'odio la devastazione la morte che si vede tutti i giorni e che entristisce tutti possa portare perlomeno a una maggiore attenzione a una maggiore attenzione sulla regione da parte esterna soprattutto l'idea di poter avere chi sul campo una fonte di informazione attendibile aggiornata perché spesso questo conflitto ci viene raccontato in un modo spesso in modo fazioso da entrambe le parti come è ovvio che sia e poi ingigantito quando poi il problema della comunicazione rimane a questo sta appunto quello che stanno facendo le diascore raccontare e cercare di far capire di più quello che sta succedendo e come soprattutto si vive il conflitto del Nagorno-Karabakh detto questo io penso comunque che per quanto l'aspetto comunicativo come già menzionato abbia importanza comunque notevole nel rendere insomma cosciente la gente delle dinamiche la regionalità del conflitto fa sì che poi questa comunicazione sia poi diciamo effettiva fino a un certo punto questo semplicemente sì a questo riguardo tra l'altro volevo chiedere a Simone di raccontarci della raccolta di firme per una lettera aperta a cui ha partecipato che ha sponsorizzato sui social di cosa si tratta? si tratta di un appello che è nato dalla società civile italiana legato naturalmente alla comunità della Biascola Armena c'è il nome di Antonio Aslan ci sono altri nomi importanti naturalmente della Biascola Armena in Italia che è relativamente piccola in realtà non è una grande Biascola negli Stati Uniti come in Francia o come in Russia però ha un peso storico da nomi importanti ebbene si sono raccolte un po' di firme molto diverse da Riccardo Muti dal direttore d'orchestra a Massimo Zamboni dei CSI e CCP a figure molto molto importanti che hanno fatto un appello per il Ciascola Cassa del Fuoco un appello che secondo me è importante e che testimonia comunque una solidarietà da parte di figure insomma importanti che che testimonino in questo momento un'attenzione rispetto a un conflitto che non c'è perché da un punto di vista politico abbiamo avuto assolutamente nessuna tensione in Italia abbiamo avuto qualcosa di più in altri paesi europei anche in Germania dove sto la situazione è un po' migliore in Francia molto di più perché anche la diaspora armina sicuramente pesa di più ma c'è un silenzio assordante in Italia rispetto non tanto al dover prendere posizioni nei confronti di questa situazione geopolitica che si trascina da decenni quello non credo che sia l'impellenza in questo momento l'impellenza arrivare a un cessato il fuoco immediato prima che i morti i profughi e i rifugiati siano troppi e prima che avvenga l'irreparabile per fortuna dopo tanti giorni di silenzio si è arrivati appunto a questo appello che secondo me è già un piccolo passo da parte italiana per testimoniare un cambiamento e una vicinanza poi cioè secondo me è importante recuperare un tipo di attivismo che c'era negli anni 90 nell'ex Jugoslavia ad Antonino Bello Alexander Langer c'era secondo me un grande patrimonio anche che sarebbe bello cercare di recuperare questa lettera naturalmente non tocca quei grandi nomi però è una piccola testimonianza che la società civile italiana esiste che secondo me è già un fatto importante visto che ci stiamo un po' arrivando alla fine di questa diretta volevo girare a voi alcune delle domande che stanno arrivando dai commenti a chi di voi vuole rispondere insomma qual è il ruolo che potrebbe assumere l'Iran per rendersi più attivo rispetto a come adesso e qual è l'impatto che ha avuto l'inaugurazione dell'ambasciata armenia in Israele sui rapporti tra Armenia e Iran chi di voi vuole rispondere prego rispondo rispondo io perché secondo me veramente comunque è fondamentale parlare di come si vive in Iran come vive il governo iraniano insomma un conflitto che è alle sue porte da tanto tantissimo tempo e mi sembra di capire come in queste due settimane perché comunque riassumere quale sia stato l'atteggiamento complessivo di Teheran verso il conflitto nel Nagorno-Karabakh sarebbe quanto difficile e probabilmente poco esaustivo nella banalità in cui si potrebbe spiegare in così poco tempo però se possiamo riassumere da quel 27 settembre in cui questo conflitto è ritornato in auge ad adesso possiamo dire che l'Iran appunto come menzionato prima ha vissuto con preoccupazione l'idea appunto di missili e appunto anche droni abbattuti comunque e in una prima dichiarazione ufficiale si era detta comunque pronta a non perdonare qualsiasi tipo di attacco qualsiasi tipo di ingerenza all'interno dei suoi territori per poi sei giorni fa ritornare su una via più conciliante e porsi e insomma mettersi a disposizione verso una diplomatica risoluzione del conflitto ma voglio dire davvero ha senso considerare l'Iran come un'alternativa credibile come pacere nella regione secondo me è molto molto improbabile parliamo comunque di un paese che ovviamente grandissimi storici culturali legami con entrambi non stiamo neanche a menzionare parliamo comunque di un paese che se non erro ha nei suoi territori 180.000 armeni ma soprattutto la vera situazione la vera spada di Damocle che pende sull'Iran è la questione degli azeri iraniani insomma parliamo di un'etnia veramente veramente influente su su quello che è lo scenario anche geopolitico di questo di questo paese parliamo adesso non ci sono delle cifre precise ma parliamo di una popolazione quella degli azeri che iraniani che si aggira presumibilmente tra i 10 tra i 20 forse addirittura tra i 15 e i 20 e le 20 milioni di persone quindi quasi un quarto della popolazione iraniana 83 83 milioni quindi cosa vuole dire per un paese come l'Iran cercare di esporsi per raggiungere una risoluzione di questo conflitto ricordiamo che l'Iran comunque parla si appella sempre a questo principio di integrità territoriale e comunque si è sempre dichiarato ufficialmente insomma in supporto dell'Azerbaijan nel suo rivendicare il Karabakh quello che sicuramente quello che sicuramente può succedere è che come come spesso accade spesso l'Azerbaijan in Azerbaijan e questo lo dico anche da esperienza personale avendoci vissuto per un breve periodo spesso questa retorica sul fatto che l'Iran in molti momenti abbia avuto un atteggiamento pro armeno abbia supportato l'Armenia che è comunque sono accuse e insomma dichiarazioni molto 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 pesanti e ovviamente come tutte le cose bisogna inquadrare questo tipo di narrativa in un contesto più realista e soprattutto l'andamento di quelle che sono le relazioni internazionali nella regione sicuramente il rapporto rinforzato tra l'Azerbaijan e Israele parliamo della questione delle armi di una collaborazione maggiore preoccupa preoccupa incredibilmente ha sempre preoccupato perché comunque qualcosa che non è nato ieri e sicuramente a origini un po' più profonde preoccupa Tehran inoltre l'idea già menzionata prima di questi mercenari dalla Siria insomma che dovrebbero seguire gli ordini di Ankara e qualcosa altro è un altro fattore un altro fattore che preoccupa incredibilmente Tehran soprattutto anche dopo la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Emirati Arabi Uniti Bahrain a sud dà comunque una certa sensazione di nuovo accerchiamento e quindi ovviamente l'Iran insomma guarda un attimo con preoccupazione questa partnership tra insomma Baku e Tel Aviv ecco quindi dubito però questo questo ovviamente non penso possa spingere l'Iran verso una delle due parti perché ovviamente prendere più le parti di una più le parti dell'altra che in questo momento per come sta evolvendo il conflitto vuol dire spesso vuol dire andare lì puntare su chi sopportare non rende non rende l'Iran un pacere credibile non lo rende non lo rende affatto Sì è tutto un gioco di scacchi come un po' tutte le guerre bisogna sempre capire da che parte posizionarsi e mettere bene i propri punti insomma sul campo sempre continuando con i commenti e le domande che sono arrivate Teresa ci chiede ma se noi riconoscessimo la Repubblica appunto di Nagorno-Karabakh questo potrebbe essere una risoluzione del conflitto? questa la faccio io se volete non succederà purtroppo mi dispiace tanto per gli armeni che ci credono ma non succederà non succederà non è successo in 30 anni l'Armenia non l'ha riconosciuta avrebbe potuto farlo ma non succederà che questo diventa un elemento e se succederà succederà in un tempo così lontano che non potrebbe neppure avere un'influenza su questa guerra a meno che questa guerra diventi una guerra infinita che speriamo di evitare naturalmente quella è una questione molto delicata cioè è anche un conflitto nella giurisdizione internazionale da un lato l'autodeterminazione dei popoli gli armeni si appallano a questo referendum che è stato fatto l'Azerbaijan si appoggia all'integrità dei territori naturalmente che è un altro principio internazionale non è solo una questione naturalmente ai Karabakh pensiamo all'ex Yugoslavia ai Balcani è una questione estremamente complessa questa il riconoscimento dell'Arsac sì è una cosa che si ripete da molti anni è arrivato a livello locale in alcuni stati anche negli Stati Uniti ma a livello di nessuna cancelleria è mai arrivato a livello di di approvazione potrebbe essere una soluzione da un altro lato potrebbe anche essere una soluzione cioè purtroppo questo Nagorno-Karabakh non potrà mai funzionare nell'immediato al momento in cui c'è una dittatura al governo in Azerbaijan non potrà mai funzionare come un alto adige di quello sono profondamente convinto perché una dittatura ipernazionalista non appoggerà mai i diritti di una minoranza con cui hanno fatto 30 anni di guerra da un altro lato non è giusta e non sarebbe giusta una nessione armena a mio avviso farò arrabbiare qualche armeno ma cioè una nessione armena soprattutto se non si prevede il ritorno di coloro che vivevano degli azzari che vivevano lì naturalmente un'ipotesi potrebbe essere un po' un'ipotesi alla Edward Said mutatis mutandi se la sto un po' forzando senza dubbio cioè quella di avere un Nagorno-Karabakh multietnico e multireligioso che però è un esperimento anche quello tutto da costruire e sicuramente non l'immediato un Nagorno-Karabakh solo armeno secondo me non è pure realistico da un punto di vista della politica internazionale nell'immediato sempre sulla suggestione che arrivano attraverso i commenti ricordo che tra Armenia e Azerbaijan c'è anche un dissidio religioso che gli azzeri sono tendenzialmente musulmani gli armeni sono tendenzialmente cristiani uno dei commenti ci chiede se adesso io la ripongo a voi magari non so se sia arrivato un comunicato da parte del Papa in quanto appunto capo di questa comunità religiosa puoi fare tu Eugenia? va bene ci provo ci provo io provo a rispondere a una domanda molto molto complessa sì il Vaticano rimane estremamente cauto sulla questione e nonostante appunto lo sforzo operato dalla Santa Sede in direzione del genocidio armeno questo non vuol dire che il Vaticano sia diciamo disposto a esporsi così tanto su un conflitto come quello del Nagorno Karabakh a prescindere da come la si pensi per quanto riguarda la guerra di religione per quanto riguarda la contrapposizione tra cristianesimo e Islam io francamente non sono non sono nella mia modesta opinione non sono d'accordo perché quello perché quello del Nagorno Karabakh non prende innanzitutto per quella che in realtà l'opinione pubblica a zero per come è vissuto l'Islam in Azerbaijan insomma è qualcosa di in realtà non c'è questa forte contrapposizione una società comunque carità una società vive con un governo ovviamente dove non vi è libertà di stampa non vi è libertà di espressione è tutto però il rapporto con la religione è alquanto distaccato quindi l'idea della contrapposizione cristiani musulmani mi sembra mi sembra fuori luogo tanto che in realtà in molti in molti anche dal mondo islamico si sono espressi a favore insomma con posizioni pro armene io io escludo questa dimensione religiosa del conflitto quanto piuttosto quella che sta accadendo di tipo etnico insomma si sono d'accordo con lui anche perché ricordiamo che le tensioni fra l'Iran e l'Azerbaijan sono dovute anche alla questione religiosa per il fatto che l'Azerbaijan accusi l'Iran di fare propaganda religiosa se andiamo a vedere le liste dei prigionieri politici in Azerbaijan che sono estremamente lunghe una larga parte dei nomi sono legati alla questione religiosa che è una questione centrale anche nell'opposizione ad Alief in realtà più che il governo ad Alief anche per l'Armenia l'Armenia naturalmente è un punto forte di un'identità religiosa rivendica il fatto di essere la prima nazione ad essersi convertita al cristianesimo e anche con basi storiche ma è un cristianesimo innanzitutto che in molti casi è stato recuperato anche dopo l'Unione Sovietica ho conosciuto armeni che hanno imparato dopo la caduta dell'URSS le preghiere poi sono diventati molto cristiani ma è stata una cosa tardiva cioè l'Unione Sovietica ha davvero cancellato tanto di quell'eredità ed è comunque un cristianesimo che non viene esibito nel nazionalismo armeno anche da un punto di vista interno il nazionalismo armeno ben prima di questa guerra ha delle punte senza dubbio velenose delle punte cancerose anche però in questo nazionalismo non rientra la componente religiosa a differenza di altri contesti è un nazionalismo se vogliamo più legato alla questione della terra e lì per capire il Karabakh dalla psicologia armena bisogna capire che naturalmente il genocidio del 1915 ha cancellato dei territori che in realtà non erano solo armeni però erano a forte presenza armena questa perdita è stata naturalmente un trauma oltre al genocidio il Karabakh per molti armeni rappresenta un appendice che in parte cura una ferita una ferita antica un appendice orientale che quasi possa compensare questa perdita enorme che è avvenuta ad occidente questo è un elemento più forte lo vediamo molto in questi giorni perché gli armeni lottano per il Karabakh in realtà non ci sono risorse non c'è nulla ma è probabilmente una questione legata anche alla storia sono altri i punti del nazionalismo almeno quindi anche io la religione quando leggo di letture religiosi è una cosa che mi infastidisce molto perché avendo vissuto lì non l'ho mai vissuta assolutamente grazie visto che stiamo andando ormai ci stiamo approssimando all'ora direi di chiudere con quest'ultima domanda tecnica che ci pone Elisabetta di se si può ancora partecipare alla raccolta firme per il cessato il fuoco quella di cui abbiamo parlato prima e dove si può trovare assolutamente si può trovare sul sito della comunità armena italiana comunità armena so che stanno ancora raccontine so che verranno fatti verranno pubblicati ulteriormente certo che lo si può fare quindi andare a questa pagina su facebook cercarla e lo si trova anche facilmente su google insomma è un appello per la pace e la democrazia un appello per i Carabac firmato da tante persone importanti dall'Aslan a Olimo Coscani a Riccardo Muti e se vuole andare a firmare mi farebbe farebbe una cosa importante non è che mi farebbe piacere farebbe una cosa importante per una casa che è importante senza dubbio e grazie bene io ringrazio quanti ci hanno seguito ci hanno mandato queste domande questi commenti ringrazio gli ospiti che veramente hanno saputo rendere più chiara la situazione su questo conflitto appunto regionale ma non solo e ringrazio la regia per averci mandato ogni tanto le immagini e questi commenti e rinnovo appunto i saluti per la prossima insomma ci vediamo alla prossima puntata ciao Martina ciao buonasera